Ciao a tutti, lui mi vuole nella sua vita, chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Toramask, iscriviti al nuovo canale, Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. Una carta 1, una carta 2, una carta 3 e la carta 4. Allora concentrati su questo lui del quale vuoi sapere se ti vuole nella sua vita, concentrati e dopodiché scegli o la carta 1 o la carta 2 o la carta 3 o la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1? Ha un buon giudizio sui te, quindi diciamo che non ci sono grossi ostacoli, però da lì ad averti nella tua vita bisogna fare delle azioni. Chi ha scelto la carta 2? No. No, diciamo che è una persona totalmente, che non ha proprio progetti di nessun genere, quindi non è predisposta attualmente ad avere una relazione stabile. Chi ha scelto la carta 3? Dovrai avere pazienza e riuscirai con la pazienza a trasformare le cose e ad averlo nella tua vita. Chi ha scelto la carta 4? Sì, ottime possibilità di avere una nuova tua vita per un'unione solida e duratura. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tremaschi, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!